TG Sport Appassionato di sport e assiduo telespettatore della nostra programmazione sportiva, Michele appunto proprio oggi festeggia il suo compleanno, quindi a Michele, ai genitori Pierina e Donato, alle sorelle Valentina e Antonella, vanno gli auguri davvero più sinceri, più affettosi da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Per quel che riguarda gli arbitri davvero una grossa novità, infatti domenica l'anticipo delle 12.30 di Serie A tra Sampdoria e Cagliari sarà diretto dal fischietto molisano Luca Massimi della sezione AIA Daniele Rettino di Termoli. Luca Massimi che noi abbiamo anche premiato nell'ultima edizione di Telemolise nel cuore che si è svolta lo scorso 7 dicembre al Coriolis. Per la seconda volta nella storia un fischietto molisano dirige una gara di Serie A. Il primo fu Antonio Vitullo alla fine degli anni Sessanta. Per Luca Massimi, 30 anni e una stagione iniziata in Serie B, una designazione che rappresenta un momento fondamentale della sua carriera e motivo di orgoglio per la sezione che rappresenta. Calcio di Serie D, il Campobasso contro il San Nicolò ha indetto la giornata rosso-blu. All'Ancellotta di Sernia arriva il Pineto, l'Agnone in trasferta a Monte San Giusto. Il Campobasso si prepara ad ospitare una delle migliori squadre del girone, il San Nicolò che però sta accusando da qualche domenica questa parte un calo nei risultati. Gli abruzzesi, guidati dal tecnico Mirko Cudini, che domenica sarà squalificato, hanno realizzato quattro punti negli ultimi quattro turni di campionato e provengono da due sconfitte consecutive. La prima ad Isernia, la seconda in casa contro il Matelica. Per il Campobasso la prossima selva piana, che sarà anche la quart'ultima partita a domicilio, suona come una tappa di avvicinamento possibile alla zona play-off dove adesso si sta sgomitando. E come si pensi che la distanza ad oggi intercorrente fra il rosso-blu e il San Nicolò è di cinque lunghezze. Insomma, l'obiettivo della squadra di Bagatti è quello di continuare una scia positiva che si stava protraendo da più di due mesi prima del K.O. contro la Savignanese. Lo stesso tecnico non potrà disporre dello squalificato lo bello, ma in compenso ci sono ottime possibilità che calzola torni fra i disponibili di giornata. Bagatti sembra orientato ad affidarsi all'undici che gli ha prestato maggiori garanzie negli ultimi turni, provando ad apportare dei lievi correttivi che tuttavia non dovrebbero sconvolgere l'assetto tattico. La società rosso-blu, attentissima alla cura del particolare, ha diramato un comunicato con cui faceva presente l'indizione della giornata rosso-blu per domenica prossima e nel contempo chi osava, come tutti quegli abbonati che non avessero beneficiato della tessera in occasione della partita contro il Sant'Arcangelo giocata a Trivento, potranno entrare gratuitamente domenica a Selvapiana. L'Isernia si vede quasi obbligata a battere il Pineto al Lancellotta, un avversario scorbutico ma che non è certamente imbattibile. A dirlo è lo stesso ritmo della squadra di Silva che in casa ha sconfitto il San Nicolò ed è riuscita a creare grossi grattacapi al Matelica. Da rilevare che prosegue il forfè per infortunio di Iaboni che sicuramente salterà gli abruzzesi. Da verificare se potrà rientrare in occasione della trasferta prossima a Cesena. Si entra nel vivo del campionato, non possono essere più tollerati passi falsi. L'Isernia deve e può provare ad uscire dalla zona play-out dove per ora purtroppo sono coinvolte due formazioni molisane. Sembra altresì da alcune voci di corridoio che il pubblico isernino domenica sia intenzionato a disertare per protesta le gradinate del Lancellotta. Staremo a vedere se effettivamente tale indiscrezione sarà confermata o meno. L'Agnone si allena con serenità e con il morale ritrovato. Alle porte c'è la trasferta di Monte San Giusto che non rappresenta sicuramente una passeggiata. I ragazzi di Foglia Manzillo stanno cercando un equilibrio di gioco che nelle ultime giornate si è visto. È stato un peccato aver pareggiato troppe gare dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio. L'allenatore Granata proverà ad avere fra gli arruolabili l'attaccante Ancora. Ad oggi sembra difficile che la punta possa essere utilizzabile nelle marche ma Foglia Manzillo ed i suoi collaboratori si riservano una decisione ultima nella mattinata di domani. Sugli scudi Salim Ribeiro titolare inamovibile e lo stesso Formuso che è tornato ad avere confidenza con il gol. Va verso un forfè a San Giusto anche il centrocampista Salifu per motivi fisici. Va detto che l'Agnone va per vincere nella provincia di Macerata ma uscire indenni potrebbe non dispiacere alla dirigenza altomolisana. Di fronte ci sarà la San Giustese cioè la squadra che in casa ha pareggiato più di tutte cioè in otto circostanze. Calcio a 5 di Serie B Sedicesima giornata nel girone D della Serie Cadetta Sedicesima giornata in pronamma domani pomeriggio nel campionato cadetto di Futsal. Nel girone D si vive la quinta di ritorno, Chaminade impegnata in trasferta a Corinaldo in provincia di Ancona. Occasione per cogliere la seconda vittoria consecutiva in casa della penultima della classe. Una gara da non fallire per i ragazzi di mister Massimiliano di Cuia in primis per chiudere una volta per tutte il discorso relativo alla salvezza e contestualmente riproporsi in zona playoff. Al momento i rosso-blu occupano il sesto posto appena al di sotto della soglia per gli spareggi. A meno uno dai cugini del Cus Molise e dal Cus Ancona. Piena bagarre dunque per i piazzamenti post-season. In fuga invece Bulldog Lucrezia e Città di Chieti. Le due battistrada sono distanziate di due punti in favore dei primi. Campionato riaperto per la prima posizione grazie ad una serie importante dei teatini reduci da 5 successi consecutivi. Tornando alla Chaminade sabato scorso è arrivato sulla sirena ed è proprio il caso di dirlo il successo ai danni del Gubbio. Gara combattutissima e chiusa sul gong dalla contestata rete realizzata da Caddeo. Tre punti fondamentali ottenuti contro un Gubbio coriaceo che ha creato seri problemi ai campo Bassani in palese difficoltà contro il gioco a 5 degli Umbri. Diverse sbavature difensive e cali di concentrazione netti come spesso successo in questo campionato. Detto questo la squadra è stata brava a reggere e restare in partita prima di piazzare anche con un pizzico di fortuna il colpo del K.O. Domani a dispetto della carta, come detto Corinaldo penultimo, il match non sarà affatto semplice. I marchigiani hanno ceduto alle prime due della classe con un parziale di misura e nel 2019 hanno espugnato il Palaunimol contro il Cusmolise. Insomma un team in salute. Fondamentale sarà l'approccio alla gara per un match davvero importante nell'economia della stagione dei Rosso-Blu. Capitolo Juniores dopo tre vittorie consecutive è arrivata la sconfitta per 3-2 in casa della capolista fuori grotta per i giovani Chaminade. Grande gara da parte dei ragazzi guidati da Pietrunti al cospetto della prima della classe. La crescita è evidente e costante e nel prossimo turno ci sono le condizioni per tornare alla vittoria. Domenica mattina alle 11 al Palasturzo ospite l'Alma Salerno in lotta per un posto nei play-off. Adesso i tornei regionali di calcio A5. Campionato regionale di Serie C1, raggruppamento A14 giornata, Venafro, Primavera Chaminade, Collevo il turno, Frosolone, Montagano Petrella, Fossaltese, Real Cerci Maggiore, Sporting, Venafro e Sestese, Castel del Giudice. Scendiamo nel raggruppamento B della Serie C. Arcaria Termoli, Virtus Castelpagano, Fussal Torre Maggiore, Frenter Larino, Kemarin, Morgia, Pietra Catella, Montorio Nefrentani, Aurora, Ururi e Pietra Fussal, Fussal Montenero. Basket femminile di Serie A2, riscattare il K.O. di Palermo, questo è l'unico obiettivo della Molisana Campobasso. Settimana difficile per la Molisana Basket Campobasso, che ha dovuto somatizzare il primo K.O. interno tra le mura amiche, nello scontro diretto contro il Palermo. La lunga Laura Gellite ha analizzato il match. E' triste chiaramente per la partita che è stata giocata, dice comunque noi abbiamo difeso bene, così come hanno difeso bene loro, solamente che purtroppo in attacco non abbiamo fatto tanti canestri, tra l'altro loro si sono messe a zona dall'inizio della partita e questo chiaramente ci ha complicato la vita. Il prossimo turno prevede un altro big match, questa volta in trasferta alla Spezia. Sì, sarà il stesso tempo come oggi. Sa che questa partita contro la Spezia sarà una partita dura quanto quella di Palermo, si dovrà preparare per fare, come tutta la squadra, una partita ancora piuttosta di quella di questa sera. Speriamo che insomma il risultato sia diverso. Atletica, il vice direttore tecnico nazionale per il settore giovanile Tonino Andreozzi ha comunicato i convocati per l'incontro internazionale indoor under 20 Italia-Francia che si svolgerà ad Ancona il prossimo 2 marzo. Al momento sono 56 selezionati, tra gli uomini Karem Atem Mersal, nazionale tesserato con la società di Isernia Management ASD. Torna in azzurro un atleta tesserato con una società molisana, tre anni dopo Daniele Donofrio, all'epoca Nai, ora portacolori delle fiamme oro. L'atleta molisano gareggerà nel lungo. Nuoto tutto pronto a Campo di Pietra per il nono trofeo M2. Raffaele Rampino, responsabile tecnico del settore acqua dell'M2. Dunque, insomma, questa volta si fa sul serio. Mi riferisco all'aspetto prettamente agonistico. Sì, c'è da dire che negli anni la famiglia Mascioli qui al centro sportivo dell'M2 ha alzato sempre più l'astricella. Possiamo dire che quest'anno veramente abbiamo toccato la vetta. Abbiamo raggiunto la vetta perché i nomi sono veramente altisonanti. Parliamo di atleti di calibro nazionale e internazionale. veri primatisti e vere stelle veramente del mondo del nuoto. Parliamo di ragazze come la Cusinato, che è stata argento nel 200 e nel 400 misti dei campionati europei. Di Gregorio Paltrinieri, che tutti conosciamo come primatista mondiale ed europeo sui 1500, stile libero. di Gabriele Detti, suo compagno, rivale, tra virgolette, amico e rivale in acqua, campione europeo degli 800 stili libero. E inoltre di Matteo Ciampi, Sara Franceschi e Federico Turrini. Quindi atleti veramente di calibro che hanno raggiunto i massimi successi a livello nazionale, europeo ed internazionale. Credo che Paltrinieri e Detti abbiano anche fatto l'Olimpiade, se non fate errato. Ci sono anche le partecipazioni alle Olimpiadi, non da dimenticare chiaramente. Quindi possiamo dire che per trovarci in una realtà piccola come quella molisana possiamo essere orgogliosi e grati chiaramente alla famiglia Mascioli per averci regalato finalmente queste star del mondo natatorio. Certamente, la presenza di campioni evidentemente è un punto di riferimento importante anche per i vostri agonisti perché quando hai l'opportunità di vedere all'opera gente che alla fine vedi soltanto in televisione è anche un momento di confronto, anche se lontano, però rappresenta un vero e proprio punto d'arrivo magari anche qualcuno dei vostri ragazzi. Sì, è chiaro che ovviamente avere degli atleti, questi veri e propri talenti all'interno dell'acqua rappresentano degli idoli da raggiungere, da emulare che possono essere dei punti di riferimento per ragazzi che dedicano, come hanno fatto anche loro in precedenza e che fanno tutt'oggi tempo, moltissimo tempo, togliendo anche del tempo libero a quelle che sono le uscite con gli amici per sacrificarle all'interno di un complesso sportivo per cui è bello che si crei questa realtà, ripeto, soprattutto in un contesto piccolo come quello molisano. I vostri ragazzi stanno facendo bene? Sì, sono contento, devo dire che sono contento di come è partita la stagione nonostante ci sia stato un cambio di vertice a livello tecnico mi ritengo finora soddisfatto Abbiamo degli appuntamenti importanti con due atleti, in particolare Andrea Magri che si è qualificato per ben sei gare a livello dei campionati italiani di Riccione ed Alessandro Trevisi che si è qualificato su 50 e 100 stile sempre per i campionati italiani di Riccione e che forse magari ci regalerà qualche sorpresa nelle prossime due settimane ma incrociamo le dita Bocce domani per il campionato regionale di terza categoria a squadre formate da atleti DC il bocciodromo comunale di Campobasso ospiterà dalle 15 a 30 la Rocca-Oratino per il match d'andata per definire la squadra molisana che approderà alle fasi interregionali dopodomani invece si terrà il primo memore alle Michele Di Tullio gara a terne regionale organizzata dalla bocciofila La Rocca di Oratino che vedrà al Via 48 formazioni per un totale di 144 atleti impegnati alla conquista della manifestazione Calcio regionale Ricco il cartellone degli appuntamenti di domani tra eccellenza e promozione Domani si torna in campo per lo start della settima giornata del girone di ritorno dei campionati di eccellenza e promozione in scena sette incontri per il massimo campionato regionale la capolista Vasto Girardi ospiterà il sesto campano scontro tra due squadre allestite per i vertici della classifica ma che vede come favorita la corazzata di mister Farina a più 20 punti dall'avversaria arbitro di gara Ciro Aldi della sezione di finale Emilia la Life che continua a stanzionare in ultima posizione dovrà vedersela con le Aclicampo di Pietra gli ospiti nonostante l'andamento altalenante giungeranno all'incontro di domani con la buona prova contro l'FVP Matese della scorsa settimana e saranno determinati a proseguire su questa linea di azione dirigerà il match Monaco della sezione di Sernia al Marchese del Prete si disputerà Venafro Città di Termoli gli undici di mister De Bellis tenteranno di portare a casa i tre punti dopo la partita dello scorso weekend con il Rocca Sicura finita 1-1 con tanto di amare in bocca per i locali i giallorossi invece vorranno riscattarsi dal netto 3-0 incassato contro il Vasto Girardi i 90 minuti sono affidati al signor Romei della sezione di Sernia il Treppini Matese si recherà sul campo del Re al Guglionesi entrambe le divisioni, reduci da sconfitta si trovano alla distanza di un solo punto in graduatoria una differenza sottilissima che renderà lo scontro una lotta all'ultimo respiro condurrà il match il signor Matarese della sezione di Termoli l'FVP Matese attende Rocca Sicura se i padroni di casa affronteranno il match in ottica salvezza gli ospiti vorranno rimediare al pareggio di sette giorni fa raccolto contro il Venafro fischietto di gara il signor De Castro della sezione di Campobasso passiamo ora in promozione il Campobasso 19-19 scenderà in campo contro l'Aurora Aururi i rosso-blu sono a quota 9 insieme al Trivento dunque ce la metteranno tutta per sbloccarsi dall'ex equo d'altro canto gli undici di mister Caputo tenteranno di portare a casa quanti più punti possibili per distanziarsi dalla zona play-out se nel turno di andata le due formazioni si erano salutate con un 2-1 a favore dell'Aurora Aururi alla vigilia del nuovo incontro i pronostici sembrano essere diversi giudice della gara il signor Ferrara della sezione di Sernia a chiudere il quadro degli anticipi alle ore 16.30 Donca e Sagnone ripali Mosani i ragazzi di mister Bentivoglio devono mantenere il trend positivo per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta una vittoria da parte dei locali potrebbe ribaltare l'attuale classifica portando la rosa esernina in zona play-off lo scontro diretto è affidato a Maglioli della sezione di Sernia domani il Termoli sarà impegnato al Marchese del Prete di Venafro per i basso omolisani situazione societaria sempre in forze Alex Capozzi esce una sconfitta però lo possiamo dire Termoli bello per 60 minuti per un'ora avete retto la grande avete anche dato fastidio al vasto Girardi poi è arrivato quel gol che vi ha tagliato le gambe Vabbè dai Pino noi veniamo da settimane anzi da mesi travagliati oggi prima della partita c'è stato il rischio fino a 20 minuti prima della partita di non scendere in gambo per i vari problemi societari quindi credo che la gente non apprezza però va fatto solo un applauso a questi ragazzi perché per l'ennesima volta stanno portando avanti un campionato senza nulla l'abbiamo detto tante volte veramente un applauso va proprio a voi state giocando veramente col cuore per la maglia problemi che si stanno piano piano risolvendo o no? ma speriamo la nostra unica ancora di salvezza è Joe Sport che ci potrebbe dare una mano è l'unica salvezza perché se no strade non ne vedo strade percorribili un applauso va a voi veramente col cuore sabato a Venafro sì sabato a Venafro sperando che in settimana si risolve una volta per tutta la situazione societaria nel campionato di promozione regolarmente in campo domani il Ripalimosani al Civitelle fischio d'inizio posticipato alle 16.30 Gianluca Gala centrocampista del Ripalimosani comunque siete in un buon periodo perché venivate anche comunque dal buon pareggio sul campo del 19-19 dove avete sbagliato anche un rigore adesso si torna fuori casa si va contro una squadra difficile da affrontare contro l'Agnone che in casa poi venderanno cara la pelle sì soprattutto il fatto penso che si giochi allo stadio che hanno appena rifatto quindi per loro sarà una motivazione in più vincere quindi dobbiamo andare lì con le giuste motivazioni e portare a casa il risultato a livello personale invece cosa puoi dare a questa squadra? cerco di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo primario che è la salvezza e ci siamo quasi e poi quello che viene di più lo accettiamo la salvezza ormai possiamo dire che è quasi raggiunta siete in pena zona playoff togliendo le prime due le altre sono tutte alla vostra portata possiamo dire la giocate con tutti qua sì abbiamo fatto anche un'ottima prestazione col Verano che era riduce da una finale di Coppa e adesso dobbiamo vedere anche lo scontro con la Capriatese fortunatamente giocheremo in casa e cercheremo di vendere cari alla pelle Lururi domani pomeriggio all'antistadio Selvapiana per riscattare il K.O. contro la capolista Bairano Mister Caputo prossima tappa Campobasso contro il 19-19 sfida salvezza che non potete fallire certo sabato abbiamo un'altra gara importante come tutte le altre che affronteremo in seguito sabato andiamo a Campobasso i miei devono stare tranquilli perché sappiamo che il nostro campionato non è finito oggi e quindi anche se abbiamo perso con la prima della classe ci sta e dobbiamo ripartire con le nostre consapevolezze e affrontare con lo spirito della squadra che si deve salvare più presto possibile e quindi cercare anche di di dimostrare il nostro valore con con le squadre che stanno un po' come noi insomma domenica il Baranello ospite della Sant'Eliana Gilberto Fratangelo portiere del Baranello una squadra come la vostra che ricordiamo ha conseguito dieci vittorie nelle ultime dodici partite quindi un cammino davvero di grandissimi numeri siete al terzo posto terzo posto che vi fa onore che vi dà una grande fiducia per questo finale di campionato quindi c'è solo da riprendere il cammino quanto prima sì sì diciamo abbiamo avuto la battuta d'arresto fuori casa contro il Barano insomma che è una squadra dieci volte più attrezzata di noi noi stiamo facendo un cammino straordinario una società attenta un gruppo di amici e ci divertiamo e oggi appunto come dicevo prima è stato fondamentale prendere un punto perché ci permette di continuare una striscia di rimanere in fiducia e comunque restare in scia delle prime diciamo mantenendo i nostri obiettivi ancora una gara casalinga per lo Spinete contro l'Aurora Capriatese Silvano Iezza centrocampista dello Spinete una squadra quella vostra che è formata per lo più da giovani con l'esperienza di Buonanno che sicuramente potrà darvi un grande contributo il campionato è ancora lungo quindi i segnali visti in questa partita possono essere decisivi per risalire questa classifica difficile sì anche grazie a Buonanno possiamo anche imparare dagli errori che facciamo e migliorare migliorare che idea ti sei fatto di questo campionato in cui davvero ogni partita può riservare sorprese si lotta punto a punto e quindi la salvezza comunque sarà un affare molto combattuto questa è la mia prima esperienza e possiamo fare di più ogni domenica ci sarà da lottare abbiamo visto come detto una squadra è un gruppo che si aiuta molto quindi anche voi ragazzi date il vostro ottimo contributo sì ci aiutiamo a vicenda per salvarci almeno per rimanere in promozione bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio